Immagina di trovarti in un mondo di ghiaccio e fuoco, spade e troni, lealtà e tradimenti. Nel primo episodio di Game of Thrones ti ritrovi nelle terre ghiacciate oltre la barriera, dove gli uomini dei guardiani della notte scoprono una minaccia gelida e mortale. I non morti. A sud, nella reggia di grande inverno, fai la conoscenza della famiglia Stark, Eddard Ned Stark, il suo ruolo di lord e i suoi coraggiosi figli. La loro vita pacifica viene sconvolta quando re Robert Baratheon arriva con un'offerta che Ned non può rifiutare, diventare primo cavaliere del re e unire le loro famiglie attraverso un matrimonio. Al di là del mare, su un continente lontano, i superstiti della casa Targaryen, Viserys e Daenerys, stanno progettando di riconquistare il trono di spade. Viserys, disposto a tutto, offre sua sorella Daenerys in matrimonio al potente Khal Drogo, con la speranza di utilizzare il suo esercito per reclamare il trono perduto. Questo è solo l'inizio di Game of Thrones, un viaggio epico che ti cattura fin dal primo episodio, pieno di intrighi, ambizioni e battaglie. Vuoi scoprire come si sviluppa questa storia mozzafiato? Iscriviti al canale, lascia un like e unisciti a noi in questa avventura indimenticabile.